bene mi sto dirigendo verso l'ufficio della stars qua al primo piano anzi si pianta il re insomma ho ripulito tutto tranne gli armadietti visto che non abbiamo ancora i tastierini e qua mi manca nei colpi pistola il coltello e il medaglione del leone adesso andiamo qua qua sbucherà mister x qua no però ecco qua la batteria ok poi documento posto violetto qua c'è pianta rossa e qua c'è un po di c'era un po di roba in effetti però cioè potrei anche non prendere niente ma ok vai usiamo il nostro dispositivo qui benetta usb ok ridammela questa qua lettera di chris ok e qua la magnum ok qua colpi pistola che non ci stanno nota di claire leon spero che tu ti trovi questa mia nota la centrale è spacciata vattene via da qui non preoccuparti per me me la caverò e non preoccuparti per mio fratello pensa solo uscire di qui vivo claire ok ok questo non ho letto ovviamente ok qua c'è un po di roba ma ci tornerò poi ah se io eccolo la questi li rimbalzano però tu ecco così è eh apro la scorciatoia ok allora questo l'avevo preso qui c'è un coltello ma no non posso prenderlo perché sono pieno ah però vabbè no dai il medaglione posso prenderlo ok vado qui vado qui vado qui piazzo detonatore ok eh non si è stortato ma dai mi è ricapitato sta cosa ma dai non si è stortato vabbè aspetta che sta arrivando aspetta che mo gli sparo eh anzi lascialo entrare allora ah no qua cos'è che era aspetta vediamo se me lo ricordo eh no che non me lo ricordo non mi ricordo questo devo vedere no devo vedere il documento qua caprone, arpa, olira e uccello caprone questo arpa e uccello ecco perfetto dai dai ah aspetta aspetta no non è no non è non è arrivato il leak mi aspettavo il leak è arrivato il tyrant però vabbè ok ok allora adesso già la cassa oggetti è niente abitudine che la cassa oggetti è qua e invece no vabbè esco di qua lo stesso vado allora vado dove che era? nella camera oscura esatto che si va di qua che si va di qua ecco che si è animato dimmi che sei già qui ah no sei sopra vado qua allora eh questa l'ho presa si qua depositiamo ok ci teniamo il medaglione no e depositiamo anche questa boh quante volte ti inginoccherai eh ritorno un attimo all'ufficio stars ritorno un attimo all'ufficio stars che le cassettine di sicurezza ah no una era in lavanderia l'altra ah forse era nella stanza interrogatoria eh mi sa ok il vento rossa l'ho presa a kit medico l'ho preso questa qua cosa mancano dei colpi di pistola ok qua siamo a posto perfetto allora usciamo da qui ok qua eh l'ho preso qui c'era un coltello perfetto e manca solo il medaglione del leone esatto che adesso vado a prendere subito anzi dentro c'era dei colpi di pistola ok prendiamo ah si niente devo ritornare alla casa perchè no spazio ok c'è oddio l'altro l'avevo depositato forse mi ricordo vabbè già che sono qui magari due li piazzo ok vabbè questo ok ok manca uno vado a prenderlo andiamo a prenderlo andiamo a prenderlo eccolo qua andiamo eccolo dobbiamo vedere l'unicorno bap bap arrivi qui non m'ha visto vabbè ok ottimo vai scendiamo trovo una linea di fuga va bene colpi doppietta salvataggio vediamo se riesco a salvare anche qui due tre volte insomma vediamo magari a sto giro però salvo prima di ada vediamo cioè prima di impersonare ada per il semplice fatto che con ada potrei morire non ho voglia di rifare da capo ok andiamo giù ah non ho preso aspetta già che ci sono possiamo anche prenderlo distintivo poi magari lo scarto esamina facciamolo tornare normale ok ok allora andiamo di qua prendiamo la granata prendiamo il potenziamento della magnum ok ok Qua c'è Mirky, proviamo a usare la mitagliatrice, va, con lui. Eccolo qua. Ok, Mirky. No. Ok, a posto. Ok, aspettate. Che raccolgo, vediamo quello che posso prendere. Vediamo, era di qua. Ok, qua c'è un'altra piantina. Ok, e a posto, a posto. Andiamo su. Qua c'era polvere e un'altra piantina, ma credo che ti fonderò. Ok, a posto sì. Ok. Qua c'era una cassa e salvataggio. Depositiamo tutto. Poi magari alla fine combina roba non lo so. Poi alla fine nella campagna non ho neanche guardato quanta roba avevo accumulato. Perché voglio accumulare così, giusto per curiosità, vedere quanto ti dà il gioco. Ma poi mi sono dimenticato. Ok, andiamo a selezionare. Questa è la nostra entrata per le... Sir Card. Scusa, ho bisogno di un'altra card. You gotta be kidding me. Get off of me! Hey! Who is that? Stay sharp! Lower it. F.B.I. Sorry. Thank you. For your help. Surprised you made it this far. F.B.I., huh? What's going on here? Sorry. That information is classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey! I'm not done talking to you. Mi piace molto di più. Cioè è più adatta anche alla sua età. Non so, quella italiana... Vabbè che hanno preso... Appunto la doppiatrice di... Di Dragon Ball. Che... C'era Goku bambino. Però comunque avendo anche 57 anni... Insomma si sente che... Diciamo... È in là con gli anni. Ecco. È una voce giovane. Eh. Chissà perché sta scelta. Vabbè. Ok. Allora. Prendiamo tutto. Andando qua. Adesso non temiamo nulla. Ok. 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 Giusto per il futuro. Anche se poi ne sbuccheranno altri. Ok. Allora. Qua c'era. Eh. Esistente. Eh. Ok. Eh. Allora. La pianta rossa... Era qua. Sì. Ok. Combiniamola. Ok. Poi. La granata stordente... Era qui. Sì. Ok. Tu sei animato prima... E direi che... Prendiamo la chiave. Qui. Ah. Tu sei animato prima, ma non è un problema. Qua... Qui. Ah. Tu sei animato prima, ma non è un problema. ok eccoci la chiave boh a posto no poi adesso qua ah già mi serve l'attrezzo io sono venuto direttamente qua perché è ancora fresco di run con clera però è vero che con leon dobbiamo andare dove è andata Ada chi è? ah già sono questi qua qua dentro aspetta aspetta oddio ecco andiamo ah no non vi ho preso bene aspetta ma vi prenderò benissimo prego prego boh ciao ok dammi tutto ok chiave qua c'era un'altra pianta rossa e il rullino si è vero il rullino vabbè ok dell'armadietto voglio spappolati per bene colpi doppietta vabbè ok vai che tanto devo ritornare quindi magari ci passerò anzi qua ci sono già i cani no 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 perché non ho riattivato la corrente è vero allora devo tornare giù a depositare un po' di roba sennò l'attrezzo non ci sta ok ok allora la chiave la teniamo ah questa la teniamo perché mi serve stavo dimenticando allora così ecco qua e usiamo subito eccola qua e prendiamo il calcio della Matilda boh voi andiamo di qua qua c'era sì dei colpi a questa possiamo no scartarla ok a te voilà beh poi posso ammazzare cioè subito effettivamente eh oppure tutti insieme dopo ma quasi quasi dai aspettiamo dopo dopo nel mucchio ok qua c'è Ben no ok incontro a real human hello human you've been here long long enough are we the last ones alive no no there's a few of us that's good news I guess yeah that's of course irons sent you irons you mean chief irons is he still around who cares hopefully he's somebody's dinner by now what do you mean by that he's the bastard that locked me in here I'm sure he had a good reason Sì, è stato fatto. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage, believe me! Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out, or... Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. You need this! Just get me the fuck out of here! Oh, my God. Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened, it's just... It happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. He had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me! I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Yeah. Well, I guess the deal is on. Okay. Allora, prendiamoci... L'attrezzo. Che si chiama... Manovella. Okay. Torre dell'orongio. Va bene. Oh, adesso con questa... Possiamo aprire le saracinesche. Allora. Direi che... Scendo ancora un attimo. Deposito tutto, tranne... La manovella. E... La chiave di quadri. Okay. Ok. E poi... Andiamo... A fare pulizia di là. Allora, rimaniamo di qui. Ah, sì. Ah, sì. Prendiamo il rullino. Che si prega. Okay. Anche se non ci serve. Poi... Prendo... Ok. Colpi doppietta. Poi... Dobbiamo andare... Di qua. Nella sala dei generatori. Vabbè, teniamo... Il lancio aranzio. Vabbè, che sti cani sono veloci. Non sia mai che mi prendono. Okay. Perfetto. Ottimo. Poi, di qua... Qua c'è una piantina. Ce la prendiamo. C'era qualcosa. Sì, polvere. Ah già, qua c'era un componente elettrico. L'ho già superato. L'ho già superato. Vabbè. Questo qua. Allora... Ma sì, io scarterei... Non si può scartare. Scartiamo i polpi. Ecco. Prendiamo lui. No, non vuole di fare avanti e indietro. Tanto. Ok. Dove è qua? Scendiamo tutto. Com'è che era questo così? No. Così? No. No. Era... Così. No. Aspetta. Questo dà tanta potenza, un attimo. Ecco, così. Due e mezzo. Cagnolini. Un po'. Sparite. Ok. Un po'. Sparite. Sparite. Ok. Un po'. Questo. Questi sono veloci. Eh. Poi ne esce uno là. No, scusate. Di qua. Ecco. Ok. Allora, già che siamo qui, io farei pulizia qui. Aspetta. Voilà. Preso al volo. Ok. Perfetto. Non ci ha preso, vero? No. Infatti. Ok. Tanto siamo immuni ai nostri colpi. No male. Almeno questo vantaglio. Eh. Noi eravamo già belli che spappolati. Eh. Ok. Ok. Allora, qua c'erano dei colpi. Ah no, li ho già presi. Ah no, li ho già presi, vero? Perché qua era già alzata. È vero, è vero, è vero, è vero. Dobbiamo andare. Scusi, eh. Non si permetta mai più. Entra un altro. Ah, altri, altri signori. Dovebbe essere anche il Tyrant. Ecco bene. Ok. Ole. Allora. Sì, qua avevamo già ripulito. Avevamo già ripulito. Qua abbiamo ripulito tutto. Ah, non ho preso una mappa. Mappa centrale pulizia B1. Vabbè, poi la prendiamo. Ehm. Sì. Allora, abbiamo la chiave di quadri per la lavanderia. Esatto. Ma... Mi sto dimenticando qualcosa. Aspetta. Ah, giusto, la manovella. Eh sì. Per salire qui. La manovella. C'erano i zombie infuocati? Sì, no. No. Vediamo il Tyrant. Non lo sento. Scusa. Ok. Ok. Torno un attimo di qua. No, lì ho aperto. Torno di qua. Vado in lavanderia. Faccio il bucato. No, non è vero. Vado in lavanderia. Prendo... Ah, questa posso scart... No, posso scartarla. Sì. Eh, ma sì. No, questo non si poteva scartare. Scartiamo anche questo. Sì. Era di qua. Aspetta, è meglio tenere il lancio il razio. Ormai che me lo trovo davanti. Ok. Ok. Allora, ecco qua. Cassetta di sicurezza. Un'altra polvere. Questa possiamo scartarla. Ok. Boh. Allora, adesso... Qua abbiamo preso tutto. Qui... C'è da liberare. Ma lo liberiamo. Eh, ok. Gli armadietti. Abbiamo solo un tasto. Aspettiamo per... Anzi, no. Aspettiamo. Possiamo andare a prendere anche l'altro. Aspettiamo. L'altro tastierino. Ah no, ma forse lui... Adesso che ci penso, magari non sbucca il Tyrant fino a quando non superiamo l'elicottero. Eh sì, perché poi... Eh, qualcuno ce lo deve sollevare l'elicottero. E certo non possiamo farlo noi. Quindi, secondo me, finché non andiamo di là... Lui non c'è. Ok. Ah, qua c'è l'ufficio di Ryrons, ma non possiamo andare. Ah no, qua ci serve... È vero, la chiave di... Di fiori. Quindi non possiamo andare... Per forza. Ok. Allora, qua l'asse. Eh, qui c'è della roba. Non posso prenderla. Là c'è l'ingranaggio. Eh, qua era comodo con Claire. Ho già... Forse anche già stradetto. Ma con Claire era comodo avere il... La cassa qui. Abbiamo qualche cura? Sì, sì. Combinarla. Aspetta che vi faccio fuori a voi, eh. Dove siete? Eccolo qua. Boh. Olè, braccia, gambe, tutto. Basta. Ok. Colpi e non posso prenderli. Ok. Quindi devo per forza andare di qua. Eh sì, devo per forza andare di qua. Esatto. Devo andare giù. La scala si rompe. Ok. E non posso più tornare su. Vabbè, torneremo su. Qua ci sono dei colpi pistola. Ma non possiamo prenderli. Ah già, il deposito è là però. Qua il Leon ha il deposito qua. Con due piantine qua. Ok. Ok. Adesso sbuccano. Dai. Olè. Oddio, se... Perfetto. Ok. Ok. Perfetto. Qua ha un sabotaggio. Ecco qui il nostro deposito. Depositiamo. Ok. Ok. La chiave di fiori. Perfetto. Perfetto. Prendiamo questo. Lo depositiamo. Ho preso tutto. Sì. Ok. Ma... Ci sono delle cervella là. Ok. Qua ci sono due piantine. Adesso le prendiamo. Boh. Va bene. Allora adesso spegnerò l'acqua. E poi dai proseguiamo. Proseguiamo. Spegnerò l'acqua. Cosa cavolo dico? Spegnerò il fuoco. Vabbè. Vabbè. Massimo. Sottoacia punto. Vabbè. Iscriviti al canale.